Carissimi amici del canale Telegram, dentro la notizia, quest'oggi abbiamo il piacere di riavere qui con noi Andrea Cecchi e Aldo Labarbera, amministratore delegato di Moneta Aurea Investimenti S.P.A., entrambi con una lunga esperienza in banca per considerare il tema del grande reset come non è mai stato affrontato, ossia, considerandolo assieme ad altri tasselli, del grande quadro di ciò che ci riserva al futuro. In particolar modo prenderemo in esame anche quanto affermato da David Rogers Webb nel libro The Great Taking, La Grande Presa, italianizzato nella Grande Stangata, e il marchio 666 della Bestia di Apocalisse, tenendo sempre presente che non tutto ciò che si propongono di fare l'elite saranno poi in grado di fare. Quindi chi avrà la pazienza di seguirci fino alla fine non solo ascolterà cose nuove ma anche comprenderà come affrontare il futuro con consapevolezza e serenità. Bentornati. Grazie Roby, un saluto a tutti i nostri amici. Bene Andrea, David Rogers Webb nel suo libro The Great Taking, La Grande Presa, ha il merito di aver studiato profondamente come funziona il sistema ideato dalle banche centrali che potremmo definire parte della matrix con lo scopo di prendere tutto da tutti. Pur presentando alcuni validi punti di preoccupazione, il libro è sorprendentemente incentrato sui problemi e scarso sulle soluzioni. Webb dà l'impressione di non tener conto di altri fattori o di non esserne a conoscenza. Cosa ne pensi? Eh sì, Roby, hai ragione. Questa è una cosa molto importante, quella del lavoro di David Rogers Webb che diciamo avviene anche in un momento in cui era importante dirle certe cose, fare molta attenzione. È un po' anche il compito nostro in questo canale, quindi diciamo ricostruire lo scenario nella sua completezza per capire la tattica che questi, diciamo, dell'oligarchia stanno adottando per impoverirci, per toglierci tutto e questo è diciamo il titolo The Great Taking, La Grande Presa, quando insomma la trappola si chiude e si rimane chiusi dentro. Qui bisogna fare un attimo una progressione di eventi, com'è che arriviamo al Grande Reset e come arriviamo al The Great Taking. Non è che è una cosa che avviene in, diciamo, in poco tempo. Loro si iniziano a preparare dal punto di vista legale e già dall'abolizione del Glass-Steagall Act, quella che impediva di utilizzare i soldi depositati dentro le banche e impediva che le banche li utilizzassero per fare operazioni speculative. Questa legge era stata introdotta all'indomani della crisi del 29 dove insomma c'era stato quell'enorme crack che tutti ricordiamo. Ecco, quando le banche hanno iniziato ad utilizzare i soldi dei clienti per fare operazioni speculative, questo ha dato origine a quella bolla gigantesca dei derivati e degli asset tossici che poi si è manifestata diciamo pienamente nel 2008 con la crisi dei mutui subprime. È interessante notare qua il sottile lavoro legale, questo fa un ottimo lavoro David Roger Webb nel suo libro, nel suo documentario, nel proprio far presente come tutto questo che avviene, cioè ovvero la grande presa, i soldi depositati in banca che appartengono alle banche, possono essere sottratti tranquillamente e legalmente. Quindi questa è l'importanza di questo libro, di questo lavoro. Allora, per certi versi passiamo ad un altro argomento. Il Great Reset del World Economic Forum è simile al Great Taking di Webb, in quanto prevede che le persone non possederanno più nulla, ma saranno felici. Almeno così vuol farci credere Klaus Schwab. Un chiaro segno di squilibrio dell'elite di Davos è quello di credersi superiori a Dio e lo dimostrano nei loro sforzi transumanisti. Ma la storia insegna che tale superbia, a partire dal loro capostipide Nimrod, proseguendo per Nabucodonosor, Erode, Agrippa e innumerevoli altri, porta a dolorosi atterraggi. Arriviamo alla, come tutti ricordiamo, alla gennaio del 2020 con l'annuncio da parte del World Economic Forum, quindi un forum economico, che ci annuncia un grande reset ovviamente economico. Quindi qui la ricostruzione è abbastanza chiara di come progressivamente le leggi vengano fatte per tutelare le banche e il World Economic Forum ad attuare quella terribile operazione di non avrete più nulla e sarete felici, che cercheranno in tutti i modi di portare a compimento. Quindi qui l'attacco nei nostri confronti è micidiale. Poi se aggiungiamo anche le parole di Warren Buffett che disse è una guerra in corso e questa guerra è da parte nostra, è il ceto ultra ricco, contro di voi il ceto medio povero e la stiamo vincendo noi e la vinceremo. Quindi è una guerra dichiarata, una guerra dichiarata nei nostri confronti, dobbiamo difenderci in tutti i modi. Ora, questo è abbastanza spaventoso. Cos'è che rende il procedimento legale di tutto questo una componente ancora più inquietante? È che alla fine loro hanno sempre bisogno del nostro consenso. Vi ricordate il consenso informato, l'autocertificazione? È sempre il cliente che va in banca e chiede il prestito e chiede l'aiuto alle banche. Quindi c'è una componente anche dove la colpa viene poi scaricata sul cittadino, dicendo voi avete votato questo governo, questo governo per tutelarvi ha fatto queste leggi, che volete da noi? È il processo democratico che ha consentito al potere di esprimersi in questo modo. Quindi arriviamo ad un momento veramente preoccupante in cui legalmente le banche, il sistema finanziario, l'oligarchia in combutta con tutta questa cabala del grande reset, possono di fatto legalmente appropriarsi di tutto per far sì che la gente non abbia niente, non avrete tutto e sarete felici. Questo tutto infarcito di ideologia green, dove uno deve essere addirittura felice di non avere più niente, perché se hai qualcosa, sei uno schifoso inquinatore che distrugge il pianeta, la cui unica tua esistenza, è quella di inquinare e distruggere il pianeta. Quindi accetta queste soluzioni meravigliose che noi abbiamo, perché sono le uniche che ti consentiranno di salvare il pianeta. Ecco, quindi tutto infarcito anche di un'ideologia che rende il loro operato quasi diciamo totalmente legittimo, accettabile anche dal punto di vista ideologico. È una operazione spaventosa quella che hanno fatto sulla mente delle persone e come si sono spianate la strada negli anni per arrivare fino a qui. Adesso purtroppo siamo arrivati all'ultima fase finale, quella con cui effettivamente si impossesseranno dei beni delle persone che non avranno più nulla e saranno felici. Ecco, quindi in questo contesto lasciare tutti i soldi in banca, nelle loro banche, nelle banche gestite da questi del World Economic Forum, che poi è tutta una casta di personaggi, quelli che George Carlin aveva giustamente definito un club nel quale noi non facciamo parte. Ecco, quindi può essere una precauzione, motivo per il quale anche con Monetaria cerchiamo di fare e con te i robi, cerchiamo di sensibilizzare le persone. Se siamo davanti a un grande reset che ci è stato annunciato, che hanno detto che stanno facendo, lasciare tutti i nostri soldi dentro i loro computer, vuol dire farseli resettare sicuramente. Ecco, la soluzione è quella di toglierli e di fargli fare il loro grande reset per poi avere delle risorse salvaguardate e poter partecipare al mondo che sarà dopo il grande reset, quindi innanzitutto rimanendo vivi, diciamo, non farsi annientare dal punto di vista proprio della riduzione della popolazione, altra cosa che loro vogliono e per rimanere vivi e in salute ovviamente avere del patrimonio salvaguardato è più facile che farlo quando uno è stato totalmente azzerato. Ecco, beh, in tutto questo comunque le banche centrali, le liti finanziarie e i governanti di questo mondo hanno chiaramente dei limiti perché se no avrebbero già fatto quello che si propongono da fare da millenni, rimane ora da considerare il terzo fattore, 666, il marchio della bestia di apocalisse senza il quale non si sarebbe potuto né vendere né comprare. Questa pare la direzione intrapresa dalle nere elite che desiderano avere il controllo assoluto su tutte le persone. Si avanzano ipotesi che questo marchio possa essere il microchip sottocutaneo o iniezioni di mRNA con nanotecnologia autoassemblante, cose peraltro già esistenti. In realtà ancora con certezza non sappiamo cosa sia. Ciò che si sa, ma che pare nessuno dica, è che gli uomini che portano questo marchio verranno colpiti da un'ulcera dolorosa e maligna, come afferma l'Apocalisse al capitolo 16, il verso 2. Quindi è di vitale importanza evitare questo marchio. E questo discorso del grande reset e di tutta questa operazione che loro vogliono fare si ricollega anche ad un disegno più ampio che è quello come giustamente avevi accennato del marchio della bestia. Quindi questa sorta di chip sottocutaneo che abbiamo spesso sentito dire, non so se sarà effettivamente quello il tipo di tecnologia, però anche questa direzione in cui accettando questi sistemi di pagamento unico che probabilmente avranno quella forma di CBDC, Central Bank Digital Currency. Anche quella è una direzione abbastanza preoccupante perché una volta che uno viene blindato all'interno del loro sistema digitalizzato e quel sistema digitalizzato sarà l'unico modo con cui accedere agli scambi, vorrà dire che è qualcosa di equivalente all'accettare quel sistema con cui non potrai vendere né comprare se non avrai questo marchio diabolico che loro vogliano imprimere sull'umanità proprio per una questione di dominio e quindi questo ci deve dare una certa perplessità. Io vi racconto una cosa magari che ho potuto assistere lavorando in banca, mi sono accorto che è tutto pieno della loro simbologia, gli assegni per esempio se li guardi in controluce c'è il 666 impresso dietro nella filigrana, c'è una famosa banca online, non randico il nome, ma che ha come simbolo, sembra uno scarabocchio, ma c'è il 666, quindi loro celebrano questo numero quasi con disinvoltura e lo mettono sui loro strumenti di pagamento, sui loro simboli, sui loro loghi, la banca HSBC, Hong Kong Shanghai Banking Corporation che ha come logo un qualcosa che ricorda vagamente la unicursa esoterica diciamo di Alistair Crowley, quindi sì c'è una sorta di comunque di modo con cui veicolano i loro simboli, rendendo il pubblico partecipe e rendendo il pubblico partecipe lo rendono complice, questo è un qualcosa da evitare, più che altro evitare di utilizzare i loro strumenti il più possibile passare al loro fisico in questa fase in cui tutto il sistema si sta resettando e questo è il consiglio che ci teniamo a dare anche con Monetario, il lavoro a cui ci sgoliamo per cercare di far capire queste cose, il lavoro per cui si è anche esposto personalmente David Roger Webb che come sia me che Aldo di Monetaria, sia Roberto abbiamo lasciato il mondo delle banche, ci siamo anche per motivi etici, soprattutto per motivi etici ci siamo venuti via, siamo venuti via dalla finanza, ci siamo messi a fare questo lavoro di divulgazione, più che altro per fare cultura, far capire alle persone quello che sta avvenendo perché bisogna essere, questo anche grazie al tuo canale, cercare di creare una comunità di persone di buonsenso che hanno capito e salvarsi da questa deriva totalmente malvagia verso la quale andiamo incontro. Aldo, alla luce di quanto detto, è necessario creare un sistema parallelo che sia al di fuori della loro matrix e come proteggersi da questi eventi che non è saggio escludere a priori? Guarda Robby, intanto una premessa su quello che avete detto poc'anzi tu e Andrea, intanto io non credo, facendo riferimento al libro The Great Taking di David Roger Webb, che non è assolutamente detto che poi queste elite riescano a raggiungere i loro obiettivi, nel senso che poi gestire la reazione di popoli, di persone fisiche e prevedere cosa succederà quando prenderanno determinate decisioni, daranno delle disposizioni, è comunque sempre difficile prevederlo nei particolari. In ogni caso, più il popolo è consapevole e meno si fa manipolare, attenzione, e quindi anche qui io credo che sia importante personaggi come te e Robby, dentro la notizia, Andrea Cecchi, altri, anche noi di Monetaura, per quanto facciamo un'attività commerciale, sia importante comunque diffondere e far prendere consapevolezza di tante cose, di modo che il popolo, le persone, gli risparmiatori siano comunque, sia molto più difficile manipolarli, quindi questo è quanto. Per quanto riguarda questi personaggi che si dimostrano, che vogliono essere come Dio, superiori a Dio, quindi vogliono, la storia ha dimostrato, senza andare troppo indietro nei secoli, come poi siano caduti miseramente. Quindi questi sono pensieri che io faccio in relazione a quello che avete detto prima. Ecco, per quanto mi riguarda, io tendo molto di più a guardare la realtà di tutti i giorni. La realtà di tutti i giorni mi fa dire che sì, è necessario creare un sistema parallelo alla luce di che cosa? Alla luce di questo rischio sistemico, noi lo chiamiamo così, questo rischio di controparte che giornalmente sta aumentando. Però c'è una cosa da dire, che fino a qualche anno fa era difficile da individuare e da prenderne consapevolezza. Oggi io penso che anche i risparmiatori meno attenti si stiano rendendo conto di come il sistema diciamo economico finanziario stia pian pianino così, stia andando in crisi sostanzialmente, cioè l'economia sta crescendo a livelli, non più a livelli di cui eravamo abituati. Notizie che ci arrivano oramai quotidianamente dalla Germania non sono positive. Dal punto di vista finanziario i stati, comunque le banche a livello globale stanno aumentando, si sta gonfiando notevolissimamente questa bolla di finanza che è stata creata e quindi comunque non sono notizie che aiutano a pensare che il rischio sistemico stia diminuendo. Dall'altro lato anche dal punto di vista socio-politico, cioè stanno succedendo delle cose che ripeto qualunque cittadino normale che non ha una magari vision di un certo tipo, una capacità di analisi approfondita, però si sta rendendo conto che la situazione sta peggiorando, vuol dire questa contrapposizione tra questa polarizzazione che si è creata in particolar modo dal 2020 poi sta comunque creando degli effetti dove quotidianamente ci arrivano notizie comunque allarmanti, se non fosse altro. Per esempio l'ultima è quella della Turchia che ha chiesto l'adesione ai BRICS. Ricordo che la Turchia è il secondo paese, fa parte della NATO ed è il secondo esercito più importante della NATO, comunque non è una nazione sulla quale non si deve tener conto. Ecco, quindi ci sono segnali comunque preoccupanti da un lato e dall'altro lato comunque dicevamo la volta scorsa anche la corsa loro da parte dei banchi centrali, non soltanto quelle che appartengono al sistema BRICS, ma anche a quelle occidentali, dicevamo riferimento alla Polonia, ma anche all'Ungheria, Turchia stessa comunque. Ecco, quindi queste cose che cosa stanno facendo? Al di là del programma delle grandi elite dove poi noi non sappiamo poi concretamente che cosa vorranno fare e quando decideranno realizzare. Noi stando coi piedi molto per terra stiamo dicendo di nostri risparmiatori retensioni. Quello che un rischio sistematico fino agli anni, alla fine degli anni 2019, così si faceva fatica a così vedere, a quantificare oggi è un po' sotto gli occhi di tutti, quindi alla luce di queste cose allora, quindi facciamo la risposta a quale? Sì, ad un sistema parallelo però con azioni che dipendono da noi. Quali sono le azioni che dipendono da noi? Le azioni che dipendono da noi sono quelle di cominciare o anzi continuare a trasformare una parte di carta o di crediti che abbiamo nei confronti del sistema in metallo, quindi in oro, ok? Quindi continuo a dire ovviamente, però lo diciamo con molta convinzione che comunque non è così automatico e semplice. Noi siamo a disposizione, diciamo, di chi ci ascolta per dare una mano con 40 anni di esperienza nel campo finanziario, con l'aiuto in maniera anche corretta ai fini delle leggi e dei regolamenti, di consulenti finanziari scritto all'albo, che peraltro sono amici nostri che hanno lavorato con noi, molti li ho formati anch'io partendo 25-30 anni fa, quindi sono persone di spessore, libere di dire cosa pensano, ma anche poi di rivedere magari certi portafogli alla luce di un rischio sistemico, perché qui si dà per scontato che tutto vada avanti come prima, ma probabilmente così non è. Ecco, quindi la risposta mia è sì ad un sistema parallelo, ma che dipenda da noi, con azioni che dipendono da noi alla luce di quello che vediamo con i nostri occhi oggi, al di là di quello che altri magari hanno predetto come libri molto interessanti o con simposi di grande spessore. Ecco, questo è un pochettino il mio. Quindi chiamateci, siamo a vostra disposizione, vi diamo una mano, mettiamo a vostra disposizione 40 anni di esperienza ai massimi livelli. Ecco, questo è un po' il mio messaggio. Bene, bene, vi ringraziamo Andrea e Aldo per il prezioso tempo che avete dedicato ai nostri amici a casa e vi aspettiamo a breve per commentare altre strepitose notizie. Buon lavoro. Molto molto. Grazie. Buongiorno a tutti. Arrivederci. Moneta Aurea Investimenti S.P.A. Oltre 40 anni di esperienza nel settore degli investimenti in Italia e all'estero. Una reputazione impeccabile, Moneta Aurea S.P.A. nasce per offrire la soluzione più sicura in questo momento di grande incertezza. La sicurezza dell'oro come bene rifugio. Per salvaguardare i risparmi delle persone abbiamo fondato Moneta Aurea Investimenti S.P.A. Operiamo con la licenza di Banca d'Italia numero 500 8883. Un'autorizzazione che garantisce la massima affidabilità. Una soluzione personalizzata per affrontare serenamente il nostro futuro insieme. Carissimi amici del canale Dentro la Notizia, un vivo ringraziamento a tutti voi che ci avete aiutato a divenire il primo media italiano di informazione su Telegram. Per continuare a offrirvi quotidianamente un'informazione intelligente a tutela della popolazione abbiamo bisogno del vostro sostegno. Potete permetterci di continuare il nostro lavoro con una donazione singola o mensile. Chi fosse interessato a sponsorizzare la propria azienda su questo canale può contattarci tramite l'email in sovraimpressione. Per essere avvisati dell'uscita dei nostri video iscrivetevi su YouTube e su Telegram. Più siamo più forza avremo. Uniti si vince! Un abbraccio dal vostro Roby